nel corso del weekend. Allora andiamo a vedere l'ultimissima in vista dell'esordio della Serie Perugia in Superlega dopo la vittoria in Supercop. Eh i bianconeri affronteranno Padova domenica a pomeriggio. Poi andiamo a sentire anche le considerazioni della conferenza stampa della vigilia del match eh di uno dei volti nuovi della Serie Perugia Massimo Colaci. Sarà doppia sfida quella tra la Sirsefti Conad Perugia e la Chioen e Padova perché la squadra di coach Valerio Baldovin impegnata ieri sera al pala Piacenza nel posticipo degli ottavi di finale di Coppa Italia ha battuto i padroni di casa in quattro set staccando dunque il biglietto per i quarti in programma proprio al pala evangelisti contro i Block Devils con i quali giocheranno anche la prima di campionato sempre al palazzetto di Perugia domenica prossima con fischio d'inizio alle diciotto. Padova si è presentata ieri senza il palleggiatore titolare Dragan Travica che infortunato potrebbe rientrare domenica per la sfida con Perugia ma la società potrebbe anche decidere di non rischiarlo ancora. In campo la Sir si troverà davanti l'opposto Gabriele Nelli MVP della partita di ieri sera e apparso già in ottima forma fisica e sarà interessante lo scontro in seconda linea tra i due liberi azzurri Max Colaci e Fabio Balaso. Trasferta lunga dunque per la società del presidente Cremonese che resterà a Perugia fino a mercoledì. Le quattro lì secondo me hanno qualcosina in questo momento qualcosina in più rispetto alle altre. Quest'anno ci sono tante squadre, tante squadre forti. Secondo me eh una delle squadre che può ci sono due squadre in realtà che possono essere veramente molto interessanti. Una è Verone e una secondo me è Piacenza anche se non ha disputato una eh una buona partita ieri insomma il risultato lo dimostra però secondo me col tempo possono diventare veramente delle squadre eh interessanti. Piacenza perché ha tantissima esperienza. Eh Verona il il giusto mix ha dei giocatori esperti ma anche dei giocatori molto molto giovani e bravi per esempio Cito Spirito che è stato nostro compagno di nazionale e ha le prime esperienze anche lui ma che è un giocatore di di grande potenzialità eh secondo me appunto a parte le prime quattro queste due sono molto molto interessanti proprio per questi due aspetti. Sono due squadre completamente differenti ma insomma che possono veramente creare delle difficoltà in particolar modo quando si andrà poi a giocare da loro. Sabato alle quattordici e venti alle ventuno potrete seguire nuovamente la conferenza stampa della vigilia del match contro Padova della giocatore della Sierra Perugia eh Massimo Colaci ma anche i particolari